La medicina sta cambiando perché cambia anche la popolazione pediatrica nel corso del tempo. Prima l'attenzione era focalizzata ad esempio sulle polmoniti, malattie infettive. Oggi quali sono le principali problematiche che il pediatra si trova ad affrontare? I bambini italiani sono cambiati per mille motivi, ma per quanto riguarda gli aspetti sanitari sicuramente c'è una componente molto più grande di bambini con patologie croniche o che hanno delle complessità assistenziali. Questo soprattutto in ambito ospedaliero ma anche extra ospedaliero. Quindi sicuramente il pediatra oggi deve affrontare situazioni a 360 gradi. Questo per quanto riguarda i bambini con patologia. Per quanto riguarda invece aiutare i bambini a crescere sani ci sono tutta una serie di componenti sociali, quindi il cambiamento profondo e radicale della società. Veniamo da un tipo, un modello familiare in cui c'erano i nonni, i genitori e molti bambini, quindi con una piramide ben delineata a una situazione nella quale in realtà in molte situazioni c'è un solo bambino con tanti adulti e quindi una piramide invertita. Aumentano le problematiche legate al disagio sociale? Aumentano sicuramente anche le problematiche legate al disagio sociale ma c'è oggettivamente una minor conoscenza dei bambini, una maggiore attenzione ai bambini e questo è testimoniato da tanti fattori, non ultimi per esempio la scarsità di asili nido, di situazioni nelle quali i bambini possano essere accolti. Prima dell'estate il bambino Gesù ha lanciato l'allarme, SOS aumenta più un 1000% l'aumento delle meningite, più di 1000 casi di meningite. Ecco, come mai questo problema e cosa fare? In realtà il numero dei casi è stazionario, quello che sorprende è il fatto che sia stazionario essendo migliorate notevolmente le condizioni socioambientali e disponendo anche di strumenti validissimi quali i vaccini, verso i quali purtroppo c'è ancora una inspiegabile e inspiegata diffidenza. Quindi noi abbiamo la possibilità di disporre di uno strumento efficace, sicuro e purtroppo questo non viene usato con la serenità con cui dovrebbe essere usato. C'è ancora purtroppo troppa diffidenza nei confronti dei vaccini. È vero che negli ultimi tempi forse si è un po' aggiustato il tiro, ma è bene fare una corretta informazione, spiegare bene che vaccinare i bambini significa fare un investimento sulla loro salute per tutta la vita. Il pediatra è il guardiano della salute dell'infanzia. Come si può rafforzare il ruolo del pediatra, quindi anche come tramite di contatto con le famiglie, per rafforzare quindi una cultura proprio dell'infanzia? Il pediatra è da tempo che assolve a questo compito, che è diventato sempre più complesso proprio perché stanno andando sulle spalle del pediatra tante altre responsabilità, proprio perché c'è una situazione nella quale sia la società ma la stessa famiglia ha forse maggiori difficoltà nel farsi carico di quelle che sono le situazioni della crescita di un bambino. E quindi il pediatra in questo ha un ruolo molto molto importante e serio, ma da solo non basta e questo ce ne siamo resi conto anche come Società Italiana di Pediatria che i pediatri non bastano, non sono sufficienti, quindi che c'è bisogno di una complicità da parte dei giornalisti, della società, perché ci vuole un coinvolgimento appunto a 360 gradi. Il pediatra può fare, ma dinanzi a quelle che sono delle problematiche sociali c'è necessità di aiutare, quindi la Società Italiana di Pediatria quello che sta cercando di fare è proprio sensibilizzare le istituzioni e tutti coloro che ruotano intorno al bambino e una grande iniziativa che c'è in tal senso è la giornata dedicata ai cosiddetti stati generali della pediatria che avvengono il 19 novembre in occasione della giornata mondiale dell'infanzia. L'attenzione è sempre più forte sulla diagnosi, si parla sempre di più di diagnosi precoce. Qual è il ruolo del pediatra all'interno di questo processo anche per individuare i campanelli d'allarme che possano far pensare a una vulnerabilità di un bambino maggiore? Il pediatra in questo può essere di grande aiuto collaborando ovviamente con la famiglia, ascoltando molto i genitori e quindi è molto importante il rapporto che si instaura tra la famiglia e il pediatra. Il pediatra sicuramente ha gli strumenti e le conoscenze per poter intercettare per tempo le situazioni sul piano neurocomportamentale ma anche per qualsiasi altro tipo di patologia. Quindi al di là di quelli che sono degli strumenti consolidati come gli screening neonatali che consentono di arrivare a scoprire addirittura prima ancora che un bambino nasca o alla nascita se ci sono dei problemi, è chiaro che il controllo che il pediatra opera nei confronti del bambino in corso della sua crescita gli consente di verificare quello che sta accadendo se ci sono dei problemi, intercettarli e quindi cercare di porvi rimedio. Un'ultima domanda, alla luce della sua esperienza proprio qui in ospedale, quali sono le emergenze e le problematiche maggiori che qui riscontrate insomma in età pediatrica? Esistono tutta una serie di criticità volendole riassumere molto brevemente e rischiando poi di dimenticarci qualcosa di certo c'è un'emergenza legata ai pazienti con necessità assistenziali complesse sia come patologie d'organo comunemente intese ma esiste poi senz'altro una emergenza che riguarda la neuropsichiatria per esempio nel senso che c'è molto più attualmente manifesta l'esigenza di questo tipo di problematiche quindi sicuramente le patologie complesse l'emergenza neuropsichiatrica e la necessità di dover fronteggiare sempre situazioni più complesse queste sono da considerare come gli aspetti più caldi e più importanti nell'assistenza pediatrica in questo momento. Grazie a tutti.